Ciao a tutti, grazie di essere qua sia voi delle altre associazioni e voi giornalisti. Siamo qui perché oggi dobbiamo presentare quello che sarà il nostro calendario di eventi del mese di luglio. Partiamo però innanzitutto dove ci troviamo. Ci troviamo in stazione a erba, ma questa volta non all'interno della stazione, ma fuori dalla stazione. Perché? Perché come tutti ben sapete, 20 giorni fa la stazione di erba è stata dichiarata inagibile, perché ha piovuto al suo interno. E siamo qui sul marciapiede perché è una scelta simbolica, cioè quello che noi diciamo è di non dimenticarsi di questo luogo, cioè non dimenticarsi che la stazione è un luogo nevralgico per le politiche giovanili e per l'intera comunità. Noi infatti vogliamo rilanciare questo luogo ed è proprio così che nasce il nostro progetto. Noi siamo un gruppo di associazioni che si sono incontrate la prima volta semplicemente tre mesi fa, era il primo marzo. La prima volta eravamo in 11, la seconda volta eravamo in 14 e oggi le associazioni che hanno preso parte al progetto, e molte sono qui, siamo in 31. Ci sono associazioni di qualsiasi tipo, ci sono associazioni giovanili, associazioni di persone più anziane, associazioni culturali, sportive, c'è una grande varietà. E quindi noi abbiamo scelto di riunirci per provare a collaborare e costruire qualcosa insieme. Perché? Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è rendere la città di Erba e il suo territorio una città viva, partendo proprio dalla stazione. Questo progetto, che si chiama Prossima Fermata, e verrà illustrato sui nostri social e di tutte le associazioni nei prossimi giorni, nasce proprio con lo scopo di rilanciare la stazione. Inizialmente si trattava di un evento al giorno proprio nello spazio stazione. Poi, e c'è chi lo spiegherà sicuramente meglio di me, quando la stazione di Erba è stata dichiarata inagibile, abbiamo scelto di rilanciare il progetto spostandoci però in altre sedi del territorio. Le sedi toccate sono molteplici e usciamo anche dalla città di Erba. La maggior parte degli eventi sono nella città di Erba, ma alcuni sono anche in altri paesi. Partiremo sabato 2 luglio con una festa organizzata dall'Associazione Lo Snodio in collaborazione con le altre consulte giovani che hanno preso parte al progetto, la consulta giovani di Lipomo, di Tavernerio e di Anzano, e si svolgerà presso l'azienda agricola La Runa. Questo progetto si concluderà il 29 luglio con una festa e una cena dove ci riuniremo tutte noi associazioni. Dicevo, questo progetto si chiama prossima fermata, perché? Proprio per ricordare la stazione, cioè noi non ci fermiamo nonostante la stazione è chiusa e andiamo avanti, fermata in fermata. Il mio intervento si conclude qua, ora lascerò la parola alle altre associazioni che dobbiamo con l'Associazione Lo Snodio necessariamente ringraziare, perché senza di loro non saremmo qua e non sarebbe stato possibile costruire ciò che abbiamo costruito. Grazie. Allora, scusate la voce afona, ma la quantità di miei vicini mi hanno detto che creano questi problemi. faccio parte del gruppo culturale La Martesana e all'interno di questo complesso programma che andiamo a presentare sarò quello che si occuperà di due serate che verteranno sul romanico, essendo io romanico dipendente. Siamo stati invitati a partecipare e siamo intervenuti alla prima riunione per sapere cosa si voleva fare. Ammetto che personalmente non conoscevo lo snodo e l'impressione è stata subito molto positiva. Da ottantenne, vedere l'entusiasmo con cui questi giovani si sono battuti nell'avventura mi ha dato un grande sollievo. Esistono ancora giovani pronti a fare e non solo a chiacchierare. Noi della Martesana siamo sulla piazza da 25 anni, 1997, fondazione del gruppo 2022, e cerchiamo di far conoscere in particolare il nostro territorio, la Brianza, in molteplici modi. Vi siete guidate a luoghi d'arte o storici, spettacoli, conferenze, eccetera, eccetera. E qui, anche a causa dell'età mia che della Martesana, rappresento anche altre associazioni erbesi, quale Arrocco Lungo Erba, Avis Erba, Biblioteca di Erba, Cai, Caritas, Shongoti, Familiarmente Noi, Il Giardino delle Ore e Nisash. Qui chiudo, riproponendo però il piacere di avere personalmente conosciuto una situazione come lo snodo, augurandomi che il disagio a loro provocato per l'inagibilità della sede sia il più velocemente possibile annullato. Buongiorno a tutti, io sono Manuel della Consulta Giovani di Pomo e sono qui oggi in rappresentanza di tutte le consulte giovani che, come accennava Simone, hanno deciso di partecipare a questo fantastico, mi vieno a dire, progetto. Le consulte giovani che partecipano, ripeto, sono la Consulta Giovani di Tavernerio, la Consulta Giovani di Pomo e la Consulta Giovani di Anzano. Abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché crediamo fortemente nella realizzazione di una rete giovanile, di una rete di associazioni che possa andare al di là dell'erbese, partendo dall'erbese anche a livello provinciale. Noi ci auguriamo che questo possa essere il primo tassello di un percorso comune, di un percorso insieme. Questo è sicuramente, posso dire, un fantastico gruppo perché come consulte ci siamo trovati davvero bene, ecco, e l'ottica è sicuramente quella di costruire, ripeto, un qualcosa insieme. Il cuore di tutto questo progetto, specialmente nell'erbese, credo che sia questo edificio qui alle nostre spalle. Cioè, riportiamo l'attenzione su questo e ricominciamo a costruire, ripeto, qualcosa insieme. E niente, tutto qui. Sono molto entusiasta e l'entusiasmo ci caratterizza, mi viene da dire, ma anche la concretezza perché comunque siamo riusciti a mettere insieme un programma occupando tutte le date di luglio, o quasi, e quindi niente, siamo molto soddisfatti e sicuramente continueremo a lavorare insieme. Ecco, tutto qui. Ciao a tutti, io sono Mara e rappresento oggi il Comitato Genitori dell'Iceo Carlo Porta, che è una delle associazioni insieme ad altri comitati genitori di scuole di erba, come la Puecker, che ha una fascia di età che comprende dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, quindi alle scuole medie e ai preadolescenti ovviamente, e al Comitato Genitori del Liceo Scientifico Galileo Galilei. Perché sono qui? Innanzitutto ringrazio l'Associazione Lo Snodo per l'invito, io non ho avuto dubbi a accettare questo invito perché davvero, a differenza di qualcuno che ha detto che non conosceva questa realtà, io in realtà ho avuto la fortuna di conoscerla attraverso la scuola. E' proprio questa la cosa che mi piaceva sottolineare, il fatto che comunque la scuola sia assolutamente una questione proprio importante, cioè il fatto che le scuole insieme a tutta la comunità, insieme al Comitato Genitori, perché fondamentalmente noi rappresentiamo i genitori, ma essendo genitori e quindi educatori, abbiamo secondo me il sacrosanto dovere di fare spazio, dare spazio ai nostri figli e quale migliore occasione di darla in ambienti come questo. Io la prima volta che sono entrata in stazione me ne sono innamorata e assolutamente ho dovuto dirlo a tutto il mondo e per cui sono davvero felice. Uno perché simbolicamente l'essere qui fuori è proprio come essere dentro, mi sono sentita a casa e di conseguenza spero davvero che questo percorso sia assolutamente un percorso che non finisce. Mi sento anche onorata del fatto che è come se io avessi ricevuto in dono dall'associazione Lo Snodo un biglietto del treno in business class, nel senso che alla fine questa è una carovana lunghissima, piena di carrozze dove tutti siamo saliti con entusiasmo. E la cosa che mi è piaciuta davvero tanto è l'accoglienza, il rispetto, la volontà di ascoltare. Come nei giochi di società mi viene da pensare, ho fatto proprio questo connubio, che di solito nei giochi di società c'è scritto da 0 a 99 anni. Ecco, più o meno ci siamo, no? Io mi colloco magari a metà, però per dire che siamo davvero un tutt'uno e l'entusiasmo che ne è derivato da questi incontri spero davvero che sia percepito da tutti. Io personalmente l'ho percepito sia in entrata che in uscita, quindi spero nel mio piccolo di essere riuscita anche a trasmettere qualcosa anche agli altri. Quindi grazie davvero. Buongiorno a tutti, sono Elena Mauri, presidente dell'associazione Fermiamoci, con sede al Satebrianza, che si occupa della violenza contro le donne e qualsiasi forma di violenza contro i minori, le persone fragili. Sono molto contenta di essere qua, quindi siamo un'associazione fuori sede e oggi rappresentanza anche delle altre associazioni fuori sede che fanno parte di questo progetto, che sono l'associazione Tricheco di Merone, Hauser Ieri, Oggi e Domani di Ponte Lambro, il Mecenate Povero di Merone, Team Alto Lambro e Vivi Civico di Tavernerio. È molto bello essere qua oggi, nonostante il disagio e la difficoltà riscontrate nel non aver improvvisamente avuto la sede che era stata prevista per svolgere questo importante progetto. Ma nonostante questo siamo qui e lo snodo e tutte le associazioni hanno deciso comunque di portare avanti questo progetto ed è proprio per questa forza di volontà e questo spirito di collaborazione che noi di Fermiamoci abbiamo aderito a questo bellissimo progetto proprio per avere condivisione e sostegno per la realizzazione dei nostri fini sociali e a nostra volta per poterli aiutare per realizzare quelle che saranno invece i loro fini sociali e le loro decisioni. Quindi vi ringrazio, ringrazio lo snodo per averci invitato e per capofila appunto di questo bellissimo progetto e ringrazio quindi i giornalisti che hanno questo importante compito di comunicare e diffondere il nostro progetto e questa bellissima iniziativa. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Martina e faccio parte dell'associazione Lo Snodo e vorrei concludere un po' questa conferenza stampa rinnovando i nostri ringraziamenti a tutte le realtà che sono presenti abbiamo scoperto essere moltissime e io personalmente alcune delle quali non le conoscevo neanche e mi fa molto piacere che siamo riusciti appunto insieme a organizzare un intero mese di eventi e sperando che ovviamente la prossima volta che ci sarà una conferenza stampa o qualche evento realizzato in collaborazione insieme sia all'interno della stazione e non sul marciapiede. Mi sento di dire anche però che il nostro impegno come gruppo di associazioni e di realtà non si conclude con la serie di eventi del mese di luglio ma continuerà, riprenderà a settembre nei mesi successivi e quindi il nostro invito è quello sempre di coinvolgere altre realtà che non hanno avuto l'occasione, non sono state coinvolte appunto in questo progetto perché il nostro scopo è quello di ingrandirci sempre di più e creare una rete sempre più ampia. Quindi non mi dilungo troppo e vi ringrazio nuovamente ringrazio le associazioni, ringrazio i giornalisti Grazie 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 Grazie